L'Europa che vorremmo è un luogo dove le menti creative si incontrano, le idee prendono il volo e le passioni si trasformano in azioni. In Europa la diversità è celebrata e valorizzata e il futuro è plasmato dalle nostre stesse mani. Immaginiamo l'Europa come un luogo di opportunità e di cambiamenti, un continente in cui sia possibile connettere popoli e generazioni per superare povertà e disuguaglianze. La nostra Europa educa la sostenibilità al rispetto delle risorse esistenti e dei beni comuni, perché le istituzioni comunitarie sono i primi attori nella lotta agli sprechi. Quando voti, scegli i deputati al Parlamento europeo che prendano decisioni che influiscano sulla tua vita quotidiana, come il lavoro, la sanità e l'ambiente. Le sfide globali che abbiamo di fronte ci devono vedere uniti, perché nessun paese membro può affrontarle con successo da solo. Il 9 giugno vai a votare! Non lasciare che gli altri decidano per te!